Un convegno in Salabini a Ravenna ha posto l'attenzione sulla regolamentazione europea relativamente al tema della privacy. Il convegno, organizzato da Confcommercio Provinciale di Ravenna, è stata l'occasione per aggiornare gli imprenditori sul trattamento dei dati personali alla luce del regolamento europeo 679-2016. La privacy è stata aggiornata dall'Europa nel 2018. Abbiamo già fatto diversi momenti sulla privacy. Questo è un aggiornamento ulteriore perché questa è una materia particolarmente ostica e complessa, ce lo diranno oggi i nostri relatori, a cui le aziende dovranno stare molto attenti, soprattutto chi utilizza il collegamento internet, utilizza dati sensibili, dati di minori. Non sottovalutiamo assolutamente questo aspetto perché ci sono delle sanzioni pesantissime. Le associazioni, Confcommercio e tutte le territoriali, le quattro territoriali del territorio, sono pronte a dare assistenza e aggiornamenti ai nostri associati. Quali sono le novità in fatto di privacy dal punto di vista dell'Europa? In particolare l'adeguamento rispetto alla vecchia normativa che è tuttora in vigore, il decreto legislativo 196 del 2003, che rappresentava l'unica fonte normativa, una sorta di testo unico per il nostro Paese. Ora invece col nuovo regolamento c'è stato un adeguamento e molti aspetti sono stati modificati, alcuni di questi complicati. Uno di questi è il registro dei trattamenti che ancora si sta discutendo o si stanno cercando certezze per come farlo, chi lo deve fare e come tenerlo. Quali sono i consigli che può dare a un'azienda? Noi rendendoci conto della difficoltà da subito, soprattutto per le piccole imprese, abbiamo predisposto un servizio sul territorio, quindi Ravenna, Lugo, Faenza e Cervia per l'associazione per commercio provinciale, proprio di ausilio all'imprenditore. Sia per quanto riguarda una prima consulenza, una prima informazione per capire di che cosa si trattava, di che cosa si tratta e in più per svolgere poi gli eventuali adempimenti. Quali sono le novità per quanto riguarda il trattamento dei dati della privacy? Le novità sono volte a garantire una maggiore trasparenza, una maggiore responsabilizzazione da parte delle aziende, da parte di tutti coloro che trattano dati. Quindi rispetto alla vecchia normativa, tra virgolette, c'è una maggior presa di coscienza del ruolo della privacy. Quindi si cerca di non renderla più come funzione marginale, quindi l'ultima cosa che l'azienda deve svolgere, costi per l'azienda inutili. Si evidenzia l'importanza del trattamento dei dati, quindi dei dati personali, perché quella è la normativa delle persone fisiche, e si evidenzia quindi i vantaggi ma anche i rischi di un illegittimo trattamento del dato, sia dal punto di vista delle sanzioni, sia dal punto di vista della vera e propria perdita materiale del dato con il totale blocco di un'attività aziendale. Perché attenzione, non dimentichiamoci, non è solo privacy, cyber security, assolutamente, ormai i computer la fanno da padrone, ma gli errori peggiori, le facilonerie, mi prendo il suo termine, sono proprio nel perdere un foglio di carta, nel farsi rubare un computer con dei dati in autogrill. In quel caso puoi avere dei problemi, perché c'è una perdita del dato, da questo punto di vista puoi avere un danno con la perdita del dato in sé per sé, ma anche dal punto di vista sanzionatorio, perché potrebbe attivarsi un procedimento amministrativo da parte del garante o addirittura il diretto interessato, che sarebbe il soggetto in cui i dati sono stati persi, potrebbe intentarti una causa. Quindi non solo il risarcimento del danno patrimoniale, ma addirittura nei casi di dati particolari, ex dati sensibili, potrebbe anche avere un risarcimento del danno non patrimoniale, il cosiddetto danno morale, le varie voci, non mi dilungo.